Oggi scopriremo insieme due funzioni importanti del bimbi, la modalità riscaldare e la modalità bollitore. Seguitemi per capire come funzionano. Quando ci troviamo sulla schermata principale di CookieDoo, scorrendo, andiamo dove ci sono tutte le funzioni superpoteri del bimbi. Tra i tanti superpoteri che abbiamo elencato in altri video, troviamo la modalità bollitore e la modalità riscaldare. Vediamole uno per volta. Cliccando su bollitore, abbiamo la possibilità di cambiare la temperatura a cui vogliamo portare il bimbi. E quest'iconcina ci specifica qual è la modalità. Spingendo la I di informazioni, abbiamo la possibilità di leggere con attenzione a cosa serve questa modalità. Questa modalità serve unicamente per scaldare l'acqua e non altri liquidi. Alla giusta temperatura, scalda da 100 a 1800 grammi di acqua. La temperatura va da 37 a 100 gradi e solo per preparare tè infusi è possibile aggiungere anche quantità di tè, spezie o erbe. Quando con questa modalità bollitore raggiungiamo delle temperature superiori a 95 gradi, allora utilizzeremo il cestello sopra il coperchio. in questa posizione. Quando invece la temperatura che indichiamo noi all'interno di questa modalità rimane fino a 95 gradi, allora potremo mettere il misurino a chiudere il foro del coperchio, al posto del cestello. Dipende dalla temperatura. Se vi piacciono i miei video, per continuare a supportare questo canale, potete acquistare un super grazie che trovate nei pallini qui sotto il video. L'altra funzione di cui vi parlo oggi è la modalità riscaldare, che serve prevalentemente per riscaldare latte, stufati e zuppe che abbiamo anche preparato in precedenza. Manteniamo nel nostro boccale e diamo semplicemente una scaldatina prima di servirlo nel piatto. Sempre dal monitor del bimbi scorrendo andiamo nella solita sezione delle funzioni. Selezioniamo la modalità riscaldare e da qui possiamo variare la temperatura fino a 90 gradi. Sempre dalla I di informazione abbiamo la possibilità di leggere le temperature perfette per scaldare. Ad esempio, si utilizza sempre l'avvertenza e quella di utilizzare sempre il misurino per evitare gli schizzi. Se si posiziona la farfalla il riscaldamento diventa più omogeneo. Riscaldare pappe per bambini a una temperatura di 37 gradi. Se si riscalda il latte, invece, la temperatura ideale è tra gli 80 e gli 85 per evitare l'ebollizione. I cibi a 90 gradi, invece, vengono riscaldati quando contengono uno o più litri. Si riscaldano anche le salse dense, ad esempio il ragù o le besciamelle, a velocità di uno o due. Per riscaldare delle preparazioni o salse dense, aggiungendo 30-100 grammi di acqua e di brodo, è possibile. Si riscaldano anche salse delicate, ad esempio un'olandese o una bernese, a una temperatura tra i 45 e i 50 gradi, a una velocità di due. Diciamo che tutte queste informazioni che ci aiutano e ci ricordano a cosa serve, come viene utilizzata bene per utilizzare al meglio la modalità riscaldare, le abbiamo sempre a portata di clic. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguire le altre ricette, sempre per scoprire nuovi segreti del bimbi.